Davy Rivera Nome? Marco Di dove sei? Villanova Vieni spesso alle terme? Tutti i fine settimana Quindi ti trovi bene? Sì, vabbè vicino casa Ma quest'estate andrai anche sul litorale oppure ti godrai più il relax e anche il benessere? Rimango proprio qui, quindi sarò sempre qui Fa anche bene alla pelle, sappiamo Così dico Nome? Omar Di dove sei? Bagni Vieni spesso alle terme? Fai due volte al mese, insomma Come ti trovi? Bene, bene, poi sta dietro casa, fa caldo Di dove è? Di Tivoli sette generazioni Vieni spesso qui alle terme? Sempre, ho fatto i 40 ingressi a maggio con lo sconto e ne ho una diecina Trova bene? Benissimo È meglio qui o al mare? Mi piace più qui, perché io avevo quattro mesi che sto a mezzo a stacquette Mio padre era fissato con bagni, mio marito fissato, i miei figli e eccoci ho i nipotini, sono tale e quale Quindi è tranquilla anche con i bambini? Certo Nome? Giorgio Di dove sei? Qui di Tivoli Più le terme o litorale romano? Terme Per quale motivo? Beh, vabbè, un po' logisticamente perché vicino abito vicino e abito quindi andare fuori E comunque si sta bene, un po' tranquillo e... Diciamo quindi che ci si rilassa di più qui? Beh, io sì, sì Nome? Francesco Di dove sei? Tivoli Si trova bene alle terme? Moltissimo Preferisci il litorale romano o le acque albure? Questa è una domanda molto difficile, il mare è sempre bello, così come le terme acque albure sono sempre belle Vi trovate bene? Molto, assolutamente sì perché comunque ci sono bei servizi Belle piscine, bell'acqua, perciò siamo contenti di venire qui Quindi anche con i vostri bambini state tranquille quando sono qui, magari che si fanno il bagno Assolutamente sì Ok, grazie